Oggi vorrei parlarti della fortuna. Spesso e volentieri, quando viviamo momenti particolari della nostra vita, pensiamo, ah, sono una persona sfortunata, ah, come sono sfigato, avrei bisogno di un po' di fortuna. Ma che cos'è la fortuna? Un mio vecchio maestro diceva, la sfiga non esiste. E io amplio questo concetto dicendo che anche la fortuna potrebbe non esistere. In realtà, lo sappiamo, la fortuna esiste, no? Perché ci sono dei momenti, delle situazioni, magari delle congiunzioni astrali che fanno sì che quel momento o quella determinata persona sia benedetta e quindi sia fortunata. Ma basarsi solo sull'essere fortunati è un grande errore dal mio punto di vista. Perché cosa fa? Porta il potere fuori. Questo lo dico in continuazione, no? Cioè aspettiamo la fortuna che ci svolti la vita. Quindi un qualcosa che arriva dall'esterno e risolve tutti i nostri problemi. Ma ci dimentichiamo di quel potere enorme che è dentro ognuno di noi. Noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Siamo delle piccole divinità fatte carne. Quindi abbiamo una connessione profonda col creatore. Ecco perché si dice, sì il creatore della tua realtà. E allora, se vuoi essere il creatore della tua realtà, non puoi basarti sulla fortuna, che è una cosa che c'è e non c'è. Gira, ruota, non rimane, ok? Ma puoi basarti sul tuo potere personale. E ci sono due aspetti, secondo me, fondamentali. Il primo è quello di cambiare prospettiva. Cambiare il modo in cui vedi la realtà. E imparare a essere grati di ciò che hai. Anche delle piccole cose. Perché la gratitudine è un'energia strettamente collegata all'amore, che sono le energie più potenti che esistono nell'universo. E sono energie solari. Quindi sono energie attrattive e radianti. Per cui, in un certo qual modo, nel momento in cui tu sei immerso in questa energia, sei grato alla vita che hai, in realtà stai attirando a te fortuna. Ma l'altro aspetto fondamentale è il tuo potere personale, che troppo spesso dimentichi. Perché le cose non cadono dal cielo. C'è bisogno di impegno. C'è bisogno anche, a volte, di fare fatica per riuscire ad attrarre a te quella che chiami fortuna. Che in realtà non è altro che un allineamento energetico di ciò che sei. Quindi trova la tua essenza, riconoscila e abbi il coraggio di esprimerla nel mondo. E vedrai che la fortuna inizierà a baciarti.